Continua lo screening sierologico sul Tricolle. Da questa mattina il centro fieristico di località Orneta si è riempito di medici, infermieri e volontari pronti ad eseguire prelievi a quei cittadini che per un motivo o per un altro non hanno potuto recarsi ai seggi nelle giornate di sabato e domenica. File ordinate, distanziamento di almeno un metro e mascherina sono le parole d'ordine. Le operazioni di screening sono andate avanti per tutta la giornata di oggi fino alle 20 di questa sera e riprenderanno alle 8 di domani. Alle 18 di questo pomeriggio erano stati oltre 400 i cittadini sottoposti a test. Tra questi non solo arianesi possono partecipare infatti allo screening anche persone non residenti sul Tricolle ma che ad Ariano lavorano. Un risultato che va a sommarsi agli oltre 12.000 test effettuati nel weekend nelle varie sedi sparse sul territorio. A presidiare le operazioni le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza. E da oggi 4 unità mobili dell'Asla sono anche impegnate nei prelievi a domicilio per disabili, persone non autosufficienti ma anche per tutti coloro che sono in isolamento domiciliare. Oltre 400 le richieste già pervenute ed è possibile inoltre sottoporre a prelievo anche i minori con il consenso di almeno uno dei due genitori.